buongiorno a tutti bentrovati al webinar di algoritmica per presentare la nostra nuova piattaforma trading robot abbiamo creato una nuova versione e ritenevamo opportuno mostrarvela e farvi vedere appunto le novità il funzionamento a fronte anche a tutte le richieste che sono state fatte negli ultimi giorni nella piattaforma tanto vi chiedo un feedback se mi vedete mi sentite bene che è importante intanto che ok allora innanzitutto trading robot che cos'è trading robot è la nostra piattaforma di esecuzione degli ordini dei trading system di algoritmica al momento sono stati integrati all'interno della piattaforma due trading systems uno è algo certificate che è completamente free e uno è il branch che è uno dei trading system a pagamento e in abbonamento che abbiamo il nostro progetto ovviamente quello di integrare all'interno della piattaforma i nostri trading system quelli che vedete sul sito tra l'altro di recente abbiamo aggiornato la sezione di trading system e se cliccate proprio sulla parola trading system nel nostro sito avete la possibilità di vedere le classifiche dei sistemi più profittevoli quelli meno profittevoli sia degli ultimi tre mesi che degli ultimi 360 65 giorni tenete conto che trading robot è un progetto che è nato sulla scia del quello che è stata poi la nostra esperienza con gli utenti al momento tutti i trading system di algoritmica sono fruibili da parte degli utenti sotto multi charts quindi chi di voi possiede multi charts può utilizzare i nostri sistemi multi charts però richiede delle skills delle conoscenze di un certo livello di un certo tipo specialmente per automatizzare i trading system quindi abbiamo deciso di sviluppare una piattaforma che andasse incontro a quelli che sono le esigenze dei trader e quindi la possibilità di non stare davanti al monitor di non stare davanti al computer e di appunto automatizzare l'operatività con i trading system trading robot è una piattaforma aperta e quindi stiamo integrando all'interno della del software della piattaforma anche trading system di altri fornitori quindi non è solo la piattaforma per e di algoritmica se andate nella sezione algo certificate trovate appunto la voce trading robot come vi dicevo in apertura abbiamo ritenuto opportuno questo momento di confronto con gli utenti per due motivi a perché ci sono diverse novità a livello di servizio e b perché ci sono state molte richieste nell'ultimo periodo anzi vi anticipo già che se siete tra i richiedenti tra il 258esimo al 294esimo queste richieste verranno smaltite tutte nel corso della prossima settimana vi chiedo di pazientare un attimo perché sono arrivate molte richieste tutte in una volta però nel corso della settimana le smaltiremo tutte alcuni alcune novità diciamo sono innanzitutto che abbiamo un nuovo broker che si faccia con la piattaforma ed ecco ed è web bank ci siamo messi a lavorare sul plugin di diretta e contiamo di concluderlo entro tre mesi visto che abbiamo abbiamo visto che per sviluppare il plugin ci abbiamo impiegato tre mesi ad esempio per fare web bank banca sella è il nostro broker storico con cui siamo partiti a maggio giugno dell'anno scorso e sostanzialmente abbiamo lanciato quindi non più di un anno fa la piattaforma mono broker e mono system io la chiamo così perché integrava solo l'algo certificate che ricordo il nostro trading system gratuito sul fuzzimib e solo sul fuzzimib era abilitato il robottino e era anche mono broker ed era una piattaforma non evoluta se vogliamo abbiamo rilasciato invece nei giorni scorsi ed è il motivo di questo webinar una versione più evoluta della piattaforma multi broker e multi trading system quindi è cambiata un pochino l'interfaccia sono cambiate anche alcune funzioni e appunto il motivo del webinar è proprio quello di mostrarvi quali sono tutte le novità allora tutti quelli che hanno richiesto la piattaforma e hanno già ricevuto il file di installazione quando lo vanno a appunto installare è un installer ci potete fare doppio clic proprio lo mettiamo qui questo vi comparirà questa mascherina che dice benvenuto il software nuovo di algoritmica inserite il numero seriale che ovviamente avete ricevuto con la mail di benvenuto e cliccate su avanti accettate i termini e le condizioni se volete compilate questi campi appunto con nome cognome compagnia avanti ecco e viene installata la piattaforma vi comparirà sul desktop questa icona se ci fate doppio clic sopra vi si aprirà la nuova interfaccia della piattaforma la nuova interfaccia della piattaforma come vi dicevo è multi broker quindi preppi già predisposta per accogliere anche i nuovi broker come dicevo stiamo lavorando su directa e contiamo successivamente anche di inglobare ivbank poi passeremo anche ai broker esteri al momento come vedete nella sezione di trading system potete utilizzare algo certificate sul fuzzimib sull'euro stock 50 e sul cac 40 poi ci sono quelli in abbonamento appunto che trovate sul nostro sito del branch del last minute al momento c'è solo il branch disponibile poi avete le impostazioni e la gestione delle finestre dopo vediamo quando ci arriviamo in ogni caso dovete impostare se volete ricevere le notifiche le impostazioni dell'account email in consiglio fate qualche prova perché abbiamo visto che in alcuni casi la mail viene inviata se non c'è la spunta utilizza le credenziali a volte se c'è quindi fate fate qualche prova create la configurazione mettete appunto il nome del destinatario dove volete ricevere la mail il nome del mittente che può essere anche lo stesso non deve essere per forza un altro indirizzo email l'unico rischio inviando email dallo stesso indirizzo email è che finiscano nello spam fate solo questa verifica ma e avete bisogno poi del smtp questa qui è una mascherina classica e tipica di outlook di windows mail di thunderbird sono tutte le impostazioni di accesso di invio anzi scusate della posta elettronica perché non fa ovviamente la lettura quindi fate alcune prove cliccate sul pulsante test invio email dopo averlo impostato e quando ricevete la mail cliccate sul pulsante salva e chiudete in questo modo il robottino vi informerà su tutto quello che andrà a fare quindi vi invierà la mail alla mattina se l'algoritmo è operativo visto che parliamo adesso di algo certificate ora questa è la scheda del sistema sul pulsante di algo certificate oggi ad esempio non ci sono segnali 26 di febbraio niente alle 9.02 chi ha il robottino dovrebbe aver ricevuto la mail che diceva nessun segnale odierno quindi avere il robottino dà anche un vantaggio in termini di tempo rispetto al sito perché sul sito viene pubblicata al 9.15 e anche la mail che viene inviata agli utenti arriva alle 9.15 quindi sapete già con anticipo se il sistema andrà ad operare oppure no vi invito a per chi è nuovo a visitare la sezione algo certificate cioè cliccate proprio sul pulsante algo certificate perché vi comparirà questo video che è il webinar trimestrale del servizio appunto algo certificate che abbiamo fatto a dicembre in cui viene spiegato bene come funziona il trading system adesso faremo qualche cenno ma ci concentriamo di più sulla piattaforma insomma sull'utilizzo del software allora nel momento in cui vi collegate aprite la piattaforma avete come vi dicevo la scelta del collegamento del broker allora potete al momento potete scegliere se utilizzare banca sella o webank se ad esempio cliccate su banca sella vi comparirà questa schermata banca sella permette la scelta con la stessa login se utilizzare il conto virtuale o il conto reale ecco mi raccomando è successo diverse volte con alcuni utenti che non facendo caso a questa mascherina dicevano conferma andavano avanti e partivano con il conto virtuale e dicevano che non gli eseguiva gli ordini mi raccomando cambiate la spunta e selezionate conto reale poi andate avanti a questo punto vi comparirà la mascherina con il codice cliente data di nascita il pin la compilate ok un attimo solo che la compilo anch'io ok vi verrà richiesto il token inserite il token che è appunto la one time password che avete ricevuto dal broker e dite continua appunto il pop up vi dirà il messaggio di pop up che avete collegato alla piattaforma solo a questo punto si potrà procedere con la scelta del trading system allora andiamo a scegliere algo certificate sul Fuzi Mib vi verrà proposta la scelta del conto titoli se avete più conti con lo stesso broker a quel punto potete procedere andando avanti con il pulsante di con la freccia proprio perché al momento proprio per guidare l'utente passo dopo passo senza fargli sbagliare strada non è possibile andare a selezionare le schede successive vedete sto cercando di selezionare ma tutte le volte torna indietro l'unico modo di usare il pulsante fatta questa procedura è necessario scaricare l'anagrafica ora da me vedete che è già compilata perché avevo già utilizzato il robottino su questo computer ma come vedete la scaricamento dell'anagrafica l'ultima volta è stato eseguito il 4 di dicembre quindi lo aggiorniamo sicuramente se saranno stati emessi nuovi titoli nell'anagrafica di banca sella non saranno presenti nel mio robottino attendiamo un attimo il completamento ok ha terminato a questo punto potete selezionare quale mercato volete utilizzare premesso che questa operazione va effettuata se volete utilizzare i certificati come sapete algo certificate è appunto una rubrica di segnali gratuiti sul Futsimib future quindi voi potete scegliere se utilizzare il Futsimib anzi scusate una premessa i segnali della rubrica vengono generati tutti sul Futsimib future voi potete scegliere se replicarli o con il mini Futsimib o con i certificati nel caso in cui utilizziate o il Futsimib future o il mini Futsimib è tutto automatico anche il rollover del contratto come sapete i future hanno delle scadenze nel caso del Futsimib hanno scadenza trimestrale e il terzo venerdì del trimestre quindi marzo giugno settembre dicembre viene automaticamente aggiornato il nuovo contratto chiaro dovete fare una verifica però non dovete stare a cercarlo nell'elenco dei titoli perché tanto quelli sono i future che utilizziamo per la piattaforma invece i certificati potrebbero essere potrebbero essere potrebbero essere emessi altri diciamo stavo dicendo potreste selezionare quelli che appunto preferite il Futsimib è disponibile solo per chi utilizza la versione senza limiti il mio consiglio ovviamente è quello di in una prima fase provare il robottino con i certificati perché potete modulare il rischio e anche la size di investimento a cifre abbastanza ridotte significa che adesso i certificati quelli che utilizziamo noi di Unicredit quotano una differenza notevole adesso di valore nel senso che il certificato long è 3-4 vale 3 o 4 e il certificato short 89-90 questo significa che con 3-4 euro potete comprare un certificato long e con 80-90 euro potete comprare un certificato short e quindi limitare l'investimento a una cifra che appunto non è sicuramente quella che viene richiesta per il margine del Futsimib future in ogni caso se selezionate il mini dovete dirgli il controvalore e scusate dovete dirgli quanti contratti andare ad utilizzare se utilizzate il Futsimib gli dovete dire anche qui quanti contratti utilizzare 3-10 fate voi le vostre scelte adesso sul mio conto è bloccata quindi non posso fare danni questo ovviamente è il nostro conticino per fare tutti i test se selezionate certificati dovete dire il controvalore per la quantità short e potete anche distinguerlo tra long e short in genere li tengo uguali andiamo però a riprendere la mascherina di destra quando avete scaricato l'anagrafica e selezionato il mercato di riferimento il SEDEX dove sono quotati i certificati di unicredit è la radicitura MCV una volta che lo selezionate dovete dirgli load infatti adesso è stato aggiornato vedete se volessi utilizzare MTA load e mi cambierebbe l'anagrafica sto ancora lavorando ha la caricata sotto è vero perfetto ok una volta che avete il avete scaricato il mercato dovete dirgli quale certificato utilizzare allora conoscete il nome oppure andate sul nostro sito nella sezione algo certificate FUZMIB e prendete l'ISIN il certificato leva 7 a questo ISIN quindi prendiamo facciamo copia lo mettiamo qui ecco vedete che rimane solo un titolo e in fondo nelle colonne c'è scritto tipo certificato non definito se ci fate clic col tasto destro anche sulla riga non è importante potete impostarlo come long o come short quindi dite long andiamo andiamo a prendere il certificato short copia filtra elenco cancelliamo incolliamo e adesso abbiamo lo short prima di fare avanti abbiamo detto la sezione certificati minifib FUZMIB la sezione controvalore a montare allora per i certificati anche questo viene spiegato bene nel video di dicembre che vi mostravo prima appunto sul nostro sito quindi andate qua nella sezione algo certificate in questo video viene illustrato bene come funziona il servizio però vi ricordo che sul sedex non possiamo inserire ordini a mercato quindi dobbiamo inserire per forza ordini limite ma noi che cosa facciamo col servizio siccome è un trading system di breakout quando raggiungiamo il livello di breakout scelto dall'algoritmo andiamo a prendere posizione sul mercato e quindi dovremmo inserire un ordine a mercato e questo è quello che facciamo con il FUZMIB e con il minifuzimib con i certificati non potendo inserire un ordine a mercato andiamo ad inserire un ordine limite a un livello più alto del mercato quindi se il certificato quota 3,50 noi andiamo ad inserire un ordine a 4 un ordine limite a 4 in acquisto in questo modo l'ordine viene eseguito a mercato diciamo che è un trucco chiamiamolo così per eseguire a mercato la distanza tra il prezzo corrente e questo ordine che viene inserito la andiamo a definire qua allora mettete noi vediamo che con 50 eseguiamo sempre perché non potete mettere un valore né troppo alto né troppo basso se mettete un valore troppo basso tipo 10 5 1 2 il rischio è che se mentre inserite l'ordine il book si muove e si sposta oltre il limite che avete scelto quindi facendo l'esempio che dicevo prima il mercato quota 3,50 si sposta fa un balzo fa un gap fino a 3,70 e voi avevate inserito l'ordine a 3,60 fin tanto che il mercato non scende fino a 3,60 l'ordine non verrà eseguito quindi se il mercato poi parte e il certificato prende valore voi perdete il trade quindi come direte allora mettiamo 10.000 1.000 1.000 no perché comunque l'exchange di riferimento il SEDEX accetta solo una certa distanza dal dal prezzo corrente cioè non potete inserire un prezzo in acquisto a 1.000 su un certificato che quota 3 ok quindi dovete mettervi un certo numero di tick noi vediamo che con 50 non abbiamo problemi né di sovra né di sovrappesare troppo il prezzo né il contrario e quindi il rischio di non essere eseguiti allora qui avete un timer invece che vi dice a che ora chiudere voi potete scegliere l'orario di chiusura dell'algoritmo noi consigliamo le 17.15 in realtà questo è l'orario che noi abbiamo continuato a utilizzare anche successivamente al cambio d'orario di chiusura anche del sedex che adesso non è più alle 17.25 ma dovrebbe essere se non sbaglio alle 17.35 o alle 17.30 in ogni caso voi potete anche rischiare di mettere appunto l'orario di chiusura esatto o 1-2 minuti prima il problema è che rischiate appunto di non essere eseguiti quindi il consiglio specialmente sui certificati è di chiudere 10-15 minuti prima che è poi comunque in parte quello che fa anche il sistema sul Fuzzimib ecco con il cambio di orario del Fuzzimib Future quindi l'IDEM mercato dove viene scambiato appunto il Future sul Fuzzimib fino a qualche mese fa chiudeva alle 17.40 adesso chiude alle 17.50 però il nostro algoritmo continua a lavorare con l'orario di riferimento delle 17.40 anche come calcolo quindi con ascoltatemi bene a questo punto ora lo unificheremo però al momento è così con Banca Sella dovete mettere 17.35 con WeBank 17.40 questo perché Banca Sella utilizza come valore della barra come timing della barra l'orario quello di inizio quindi alle se volete utilizzare il prezzo delle 17.40 con Banca Sella dovete mettere 17.35 perché qui noi facciamo dei ragionamenti con barre a 5 minuti e quindi l'orario delle 17.40 è quello che viene determinato con la barra delle 17.35 comunque ora non andiamo a complicarci troppo la vita come vi dicevo mettete 17.35 se utilizzate Banca Sella 17.40 se utilizzate WeBank qui selezionate che tipo di notifica volete ricevere e siete a posto se siete a posto però lo capite cliccando sulla freccia avanti quando arrivate qua innanzitutto si devono aggiornare i prezzi se non si aggiornano c'è qualcosa che non va secondo punto se vi siete dimenticati di impostare i certificati qua compare la scritta dove c'è scritto UFIB L7 compare la scritta certificato long e nessun prezzo che si aggiorna e sotto certificato short e nessun prezzo che si aggiorna ora vedete ecco così diamo i prezzi corretti certificato long al momento quota 3.73 e certificato short al momento quota 67.55 ok novità della nuova piattaforma per una questione di compliance quindi a livello proprio di chiamiamola compliance check con appunto a livello legale è richiesta da parte dell'utente l'abilitazione agli ordini e la cancellazione della conferma dell'esecuzione degli ordini voi religiosamente ovviamente sapete poi quali sono i rischi da affidare l'esecuzione automatica a un software però dovete tutte le mattine abilitare gli ordini quindi il secondo quello centrale e disabilitare la richiesta di conferma di esecuzione degli ordini altrimenti il robotino nel momento in cui invia l'ordine lo invia ma lo mette in sospeso e vi dice siete sicuri che volete eseguire l'ordine allora se siete davanti al computer cliccate sì e va tutto avanti se non siete davanti al computer non succede niente rimane tutto in sospeso e non entrate la finalità del robotino ovviamente è quella di supportarvi nell'automatizzazione della strategia fate questi due passaggi quindi abilitazione ordini richiesta conferma esecuzione degli ordini dovete abilitare l'autotrading altrimenti il robotino non fa niente vi dice solo quali sono i livelli vedete ora i livelli sono rossi entrata long stop loss long entrata short stop loss short sono i livelli che avremmo utilizzato oggi se l'algoritmo fosse operativo vedete che c'è un pollicione che vi dice trading odierno trading odierno attivo o trading odierno non attivo oggi non si opera come dicevo prima quindi i livelli sono rossi e se andate nella schermata successiva vedete il grafico al momento se oggi fossimo operativi saremmo andati long vedete il mercato è aperto qua il trigger long era il secondo livello blu il trigger short è il secondo livello rosso quindi il primo dei due che viene raggiunto ed è stato raggiunto questo il livello long quindi 17.4.60 alle 9.30 sarebbe appunto stato eseguito l'acquisto long potete anche fare lo zoom abbiamo inserito alcune novità diciamo sulla sul grafico se doveste vedere il grafico non non correttamente a volte succede che viene fuori una barra gigantesca che arriva fino a zero cliccate sul pulsante aggiorna grafico stiamo cercando di risolvere questo piccolo bug che a volte succede con banca sell se torniamo indietro avete la scheda di auto trading ora per questione di tempo non mi soffermo sul discorso allineamento perché vi invito a guardare il video che trovate nella sezione trading robot del sito se andate in consulta ai video formativi trovate diverse informazioni tipo l'installazione il primo accesso in fondo proprio l'ultima trovate l'allineamento delle posizioni in cui spieghiamo esattamente come allineare le posizioni ovviamente il mio consiglio è quello di aprire il robottino prima delle nove fare esattamente tutte le operazioni che abbiamo visto fino adesso poi faremo un passo indietro vi farò vedere che tanti valori vengono salvati poi dal trading robot quindi non dovete rimpostare i certificati tutte le mattine ve li trovate già lì pronti comunque dovete abilitare gli ordini disabilitare la richiesta di conferma di esecuzione degli ordini e cliccare su auto trading vi comparirà la maschera dell'allineamento se lo fate prima delle nove vi dirà che l'algoritmo deve ancora operare e siamo flat voi gli dite ok adesso ci sono i livelli che vengono mostrati anche se non è operativo l'ordine ma non è un problema questa è la situazione che dovreste avere prima delle nove alle nove due se l'algoritmo è operativo vi compare la maschera di allineamento della strategia quella che era comparsa prima adesso ormai l'abbiamo accettata proviamo a ripartire vedete è già impostato 200 è già impostato 1740 la dovremmo mettere 35 con banca sella se gli diciamo avanti ci sono già i certificati vedete quindi domani non devo rimetterli però devo abilitare gli ordini disabilitare richiesta conferma di esecuzione degli ordini attivare l'auto trading lì che siamo flat ecco alle nove due quando vi arriva la mail se la mail dice che l'algoritmo è operativo dovete andare davanti al computer e accettare la strategia questa fa parte appunto anche della compliance check quindi in questo modo l'algoritmo vi dice proprio se il fib c6 future raggiunge il prezzo di 17 4,60 acquisteremo il certificato al prezzo corrente di mercato cioè segue esattamente quello che avete impostato e vi dice i livelli di acquisto e i livelli di uscita in ogni caso chiuderò tutte le posizioni alle 17 alle 17 e 15 accetti sì dal momento che accettate il robottino è autonomo ovviamente deve essere collegato a internet collegato alla piattaforma del broker per banca sella non dovete avere la piattaforma del broker aperta e avere allora facciamo un un brevissimo excursus sui requisiti minimi allora con banca sella dovete avere il sella trading bridge attivo se siete nuovi clienti di banca sella o clienti di banca sella che appunto vogliono provare il robottino chiedete agli operatori di banca sella di darvi sella trading bridge gratis per sei mesi per provare il robottino altrimenti è un servizio a pagamento dovete avere il flusso dei dati attivo ed è importante quello che vi dicevo prima lo capite subito quando entrate in questa schermata se i prezzi non si aggiornano e poi dovete avere un certo profilo di rischio e destinare la liquidità queste sono ovviamente dettagli che dovete chiarire con il broker però vi dico già io che potete anche creare delle regole e destinare la liquidità in automatico non dovete tutte le mattine dire il robottino è a disposizione 1000 euro 5000 euro potete fare in modo che tutti i giorni si auto assegni la liquidità per webank dovete avere attiva la piattaforma T3 open adesso facciamo anche una prova con quella quindi se non avete la piattaforma T3 attiva dovete fare la richiesta e poi ci sono un paio di passaggi per rendere il trading automatico al 100% altrimenti a monte la piattaforma di webank vi blocca gli ordini del robottino ci sono invece i casi in cui voi aprite il robottino alle 10 di mattina e il robottino è già in posizione ecco quelli sono i casi che vi invito a guardare nella sezione trading robot consulta i video formativi e l'ultimo video in fondo allineamento posizioni è un video come vedete di 6 minuti quindi vi invito a guardarlo perché c'è il caso in cui avete già comprato i certificati e volete allineare il robottino c'è il caso in cui non li avete comprati ma volete che li compri il robottino al posto vostro nel caso in cui il robottino abbia già preso posizione e non era aperto in quel momento ci sono diversi casi vedete quel video e vi si chiariranno molti dubbi abbiamo ripristinato nella nuova versione i pulsanti compra e vendi così nel caso in cui ci sia qualcosa potete appunto acquistare e vendere a mercato cliccando su questi pulsanti attenzione che sono operativi senza appunto chiedervi la conferma quindi non cliccate lì se non necessario ecco così il robottino è pronto per operare fine non c'è altro da fare a quel punto ovviamente il mio invito è quello di seguire la sua attività però non dovete essere necessariamente davanti al computer nel momento in cui l'ordine deve essere eseguito una nota importantissima mi è successo con un utente aveva l'orario del computer sballato di 5 minuti alle 9 e 2 il robottino nel suo computer che era avanti il mercato non era ancora aperto il robottino siccome prende l'orario del computer cercava di guardare se l'algoritmo era operativo oppure no che cosa faceva? andava a prendere i prezzi del giorno precedente e quindi diceva sulla base della tradabilità del giorno precedente diceva se oggi il robottino avrebbe dovuto operare o no mi raccomando utilizzate computer in cui l'orario è aggiornato adesso non deve essere al millisecondo però quando dite chiudi alle 15 e 15 lui chiude alle 15 e 15 dell'orario del vostro computer quindi impostate qualche cosa che vi tenga l'orario aggiornato nel computer quindi questo è importante vediamo un attimo il caso WeBank che appunto è una delle novità con WeBank dovete ovviamente avere la T3 Open la apriamo ci metterà un attimo ok mi comparirà la schermata di autenticazione ok si è già aperta allora come vi dicevo mi accennavo anzi con WeBank sono richiesti due passaggi questi due disattivazione delle impostazioni di sicurezza riepilogo ordine ovviamente a vostro rischio e pericolo però se volete automatizzare al 100% io vi mostro quali sono i passaggi impostazioni sicurezza non dovete appunto avere la spunta su riepilogo ordine e su accettazione ordine in questo modo tutto quello che arriva da Trading Robot viene incanalato dentro la T3 Open e quindi viene accettato dal Trading Robot possiamo anche mettere icona questo se cliccate su connessione WeBank non vi proporrà la procedura che abbiamo effettuato con Banca Sella perché è necessario avere la T3 Open aperta e quindi avete già loggato la piattaforma del broker è sufficiente già partire con l'algoritmo quindi gli dite WeBank ovviamente deve essere verde lo sfondo perché se fosse rosso adesso la diretta non è disponibile ancora però se fosse rosso vorrebbe dire che non legge il flusso non si è collegata bene dite avanti allora con WeBank c'è una differenza vedete l'abbiamo scritto qui cerca WeBank only WeBank rispetto a Banca Sella non vi fa scaricare l'intera anagrafica e poi andate a fare un filtro sull'elenco dovete dirgli voi qual è il titolo che vi interessa quindi tornate sempre sul sito di algoritmica sezione algo certificate fuzimib vi copiate il nome del certificato anzi leasing così proprio non ci sono problemi quindi qui cancellate quello che c'è scritto incollate e fate la ricerca ecco facciamo l'esempio di prima se io adesso andassi avanti senza impostare niente vedete qua c'è scritto certificato long certificato short quindi si aggiornano in automatico i livelli del fuzimib future e del mini fuzimib future quindi se utilizziamo il mini future non ci sono problemi nel caso in cui andiamo a utilizzare i certificati invece c'è un problema perché non li sta leggendo quindi vi ricordo impostate i certificati diciamo imposta questo come long andiamo a prendere lo short e lo impostiamo anzi lo cerchiamo ecco questo qui il terzo short il mercato di riferimento in questo caso è cv dunque l'ha già trovato vedete market code cv non deve essere neanche selezionato il mercato a questo punto siccome abbiamo impostato il long e lo short gli dobbiamo dire il controvalore di acquisto diciamo 70 adesso il delta del prezzo è quello che dicevamo prima il termine di orario tra l'algoritmo è sempre quello di prima qui l'orario di chiusura è alle 17 40 scegliete tutte le notifiche che volete ricevere con il robottino avanti cosa dobbiamo fare abilitare gli ordini visabilitare la richiesta di conferma di esecuzione e abilitare l'auto trading fine niente di più a questo punto possiamo ripristinare anche bancasella e così facciamo una bella competizione fra broker e vediamo quale dei due esegue meglio l'ordine a parte le battute potete tradare anche contemporaneamente lo stesso algoritmo con due conti diversi o trading system con un conto e trading system con un altro ad esempio se adesso vado a debilitare il branch posso tradare ad esempio con il secondo conto di bancasella oppure in ogni caso posso scegliere un broker piuttosto che un altro per fare trading con il nuovo algoritmo abilito gli ordini richiedi conferma no auto trading anche oggi il branch non è operativo però adesso ho praticamente messo branch algo certificate con branch algo certificate con bancasella algo certificate con webank posso abilitare anche l'euro stocks cioè abbiamo creato questa piattaforma multi broker multi strategy ci sono un paio di domande alcune a cui abbiamo già risposto i migliori risultati su quale prodotto sono ottenuti ovviamente sul fuzi mi parlando di algo certificate algo certificate è un servizio che è nato sul fuzi mi e se andate a vedere i risultati sono indubbiamente discreti diciamo scegliete voi la parola però abbiamo avuto dei bei risultati purtroppo l'anno scorso non ha dato i suoi frutti però adesso si è ripreso vedete siamo sul picco di equiti se andate a vedere l'euro stocks ha una redditività inferiore è chiaro che dovete fare i conti anche con il periodo nel senso che allora con l'euro stocks non cambia molto però anche l'euro stocks adesso è sul suo picco di equiti allora con algo certificate fuzi mi siamo partiti a dicembre 2012 gennaio 2013 esatto dicembre con euro stocks ad agosto del 2013 ad esempio il cac 40 siamo partiti da non molto vedete siamo partiti da aprile 2015 non ha dato niente di speciale però è lì è chiaro che è in dubbio su quale sottostante abbiamo avuto i risultati migliori il mio consiglio è quello ovviamente di fare i fuzzi e poi magari di aggiungere gli altri con size inferiori in un secondo momento stiamo lavorando anche per aggiungere il DAX altre domande funziona bene anche con un Mac purtroppo no non è compatibile con l'ambiente e sistemi operativi Mac Macintosh quindi l'unica soluzione che avete utenti di Macintosh praticamente dovete virtualizzare Windows all'interno del Mac è una procedura abbastanza semplice se cercate su internet appunto guardate cos'è Parallels e trovate subito una soluzione che vi permetta di usare il robottino sul vostro Mac però purtroppo lo sottolineo purtroppo non abbiamo al momento la versione compatibile con il Mac e di sicuro a breve non ne avremo una ora ci stiamo concentrando molto sull'ampliamento della base broker e della base sistemi altra domanda WeBank deve essere la T3 Open o va bene anche la Next T3? no purtroppo dovete usare la T3 Open dico purtroppo nel senso per gli utenti che abbiano già attiva la Next T3 dovete fare richiesta e farvi attivare la T3 Open io non ho quasi altro da dirvi nel senso da mostrarvi vi dico appunto solo che la piattaforma è completamente gratuita sono i sistemi che sono in abbonamento il sistema Algo Certificate è gratuito con soglie di investimento limitate quindi fin tanto che il mio consiglio ovviamente è di provarlo all'inizio con delle soglie basse però una volta che prendete dimestichezza con il software e confidenza potete alzare i livelli di rischio sulla base del vostro profilo con Algo Certificate il robottino è gratuito con una soglia di investimento pari a 5.000 euro di certificati e altrimenti potete fare un minifib se volete alzare i livelli del minifib quindi volete farne due volete fare un fuzzimib future o volete fare 30.000 euro di certificati alla volta con il robottino abbiamo predisposto la licenza annuale che chiaramente è commisurata a quello che potrebbe essere una piccola parte del rendimento che deve dare poi la piattaforma con investimenti di una certa entità è il motivo per cui è gratuita con piccole soglie allora c'è un'altra domanda purtroppo mi sono appena collegato intanto vi dico che stiamo registrando e quindi la registrazione di oggi oltre ad essere inviata la prossima settimana via mail verrà pubblicata già tra oggi e domani nella home page del sito di algoritmica stiamo rinnovando un po' il sito trovate nella home page tutta la sezione degli eventi ora stiamo anche creando il programma del convegno che faremo a Bologna il 28 maggio 2016 quindi segnatevi questa data perché è un convegno talmente gratuito quindi è un momento di confronto fisico umano e diretto con le persone ed è sicuramente l'unico che facciamo tutto l'anno quindi sarebbe un piacere incontrarvi tutti e sotto trovate le nostre news quindi abbiamo appunto lanciato da poco la nuova edizione del corso opzioni e qui c'è la registrazione delle prime lezioni verrà pubblicata la news con la news con il video di oggi oltre appunto ad essere inviata la prossima settimana via mail quindi se vi collegate sulla home page del sito di algoritmica tra stasera e domattina la trovate la registrazione andando avanti con la domanda vorrebbe sapere l'utente se o quando sarà possibile operare con directa allora no sarà possibile assolutamente operare con directa purtroppo avrete per chi ci segue avrete notato che abbiamo allungato un po' i tempi ci scusiamo di questo perché appunto directa contavamo di averlo già per dicembre 2015 purtroppo il passaggio alla piattaforma multi broker multi system ha richiesto molto lavoro e anche molto più di quello che ci aspettavamo più l'aggiunta di tutti i controlli di compliance che all'inizio non avevamo previsto quindi siamo un po' in ritardo abbiamo visto che con webank abbiamo impiegato tre mesi realmente ad integrare tutto quindi abbiamo appena iniziato a lavorare con con directa il nostro obiettivo è quello di arrivare al convegno del 28 di maggio per avere anche directa dentro alla piattaforma altra domanda i 5000 euro devono essere sul conto o si intende controvalore investito allora in parte è la stessa cosa nel senso che se voi volete investire 5000 euro di certificati come vi dicevo dovete avere 5000 euro quindi nel conto ci devono essere 5000 euro ma non significa che voi dovete avere 5000 euro nel conto per fare il robottino come vi dicevo al momento i certificati che utilizziamo noi quotano 366 e 70 euro l'altro quindi 366 long 70 euro lo short con 70 euro potete fare trading con il robottino il margine richiesto per l'acquisto del certificato equivale al valore del certificato non so se ho risposto bene alla domanda nel senso se ho chiarito il dubbio però nel conto non ci devono essere 5000 euro ecco se volete operare con 5000 euro lo potete fare è chiaro che dovete avere la disponibilità nel conto bene aspetto ancora un attimo se ci sono delle domande spero di aver chiarito dubbi e appunto quesiti relativi alla piattaforma anche se come avete visto abbiamo cercato di renderla più semplice possibile vi confesso che se non lo richiedesse la normativa italiana non avremmo neanche messo il pulsante abilità ordini richiedi conferma esecuzione ordini accettazione dei livelli cioè sarebbe ancora più semplice per appunto una questione di compliance dovete tutte le mattine abilitare gli ordini e richiedere la conferma di esecuzione però lo ripeto adesso io esco dalla piattaforma la vado a riaprire mi dirà che non sono collegato con con direkta però se io apro largo certificate vedete con banca sella non sono collegato seleziono webank lo vede verde perché c'è la piattaforma aperta dietro vado avanti vado avanti vedete già 17,40 17,15 70 euro che è quello che abbiamo impostato prima vedete che i certificati sono già selezionati quindi non dovete tutti i giorni andare a selezionare i certificati e andare a rimettere i valori ovviamente è tutto salvato dovete lo ricordo abilitare gli ordini disabilitare la richiesta di conferma e mettere auto trading e alle 9,02 se vi compare la mascherina l'algoritmo operativo accettare i livelli fine da quel momento in poi ci pensa il robottino fa al massimo una operazione con algo certificate quindi potete appunto seguirlo facilmente come vi dicevo all'inizio andando a vedere il video che spiega esattamente come funziona il servizio algo certificate poi in ogni caso abbiamo già predisposto anche il webinar no scusate non cliccate su Fuzzimib ma su algo certificate ecco e guardate il video su youtube che abbiamo pubblicato se torniamo nella home page come vi dicevo c'è l'area dei webinar oltre al webinar di oggi abbiamo già predisposto il webinar trimestrale di punto della situazione in cui guardiamo un po' come è andato il sistema nell'ultimo trimestre vi potete già anche iscrivere è quello del 19 di marzo mi richiedete se la registrazione sarà disponibile come vi dicevo sarà disponibile qui nella home page al posto adesso non al posto scalerà in basso l'articolo sull'introduzione alle opzioni ci sarà l'articolo tra oggi pomeriggio e domani mattina sulla registrazione di oggi oltre che invieremo la mail a tutti gli iscritti al webinar con il link si possono utilizzare certificati diversi noi non possiamo imporvi l'utilizzo di nessun tipo di strumento quindi voi potete impostare appunto lo strumento che volete utilizzare qua nel campo di filtro è chiaro che non coincideranno i risultati con quelli che otteniamo noi quindi poi dopo noi abbiamo testato questi e utilizziamo questi ecco allora domanda con il conto WeBank una volta aperto il pc la mattina deve comunque rimanere aperto tutto il giorno oppure si può chiudere due ore oppure se si chiude per due ore rimane non attivo per questo tempo non mi è chiara bene la domanda in ogni caso intanto rispondo se mi chiarisce un po' di più Robottino ha due note importanti deve essere collegato a internet quindi se lo installate sul computer di casa ovviamente dovete avere il computer collegato a internet dovete avere il computer sempre acceso e deve essere acceso nel momento in cui l'algoritmo prende posizione altrimenti perdete l'operazione sia in ingresso che in uscita il consiglio è quello metteremo poi anche un'area riguardante questa nota è quello di una volta che avete preso dimestichezza con la piattaforma di prendervi un piccolo server virtuale da 30 dollari al mese per installare sopra il trading robot e quindi non avere l'impegno di tenere il computer fisso il computer portatile acceso tutto il giorno però è la condizione senza la quale non si può utilizzare il robottino io nel frattempo vi invito a visitare il nostro canale di youtube che abbiamo rinnovato e abbiamo iniziato a pubblicare veramente molti video quindi trovate il pulsante appunto sul sito di algoritmica o se cliccate sul simbolo youtube o su seguici su youtube abbiamo anche fatto il trailer del nuovo canale quindi ci stiamo lavorando trovate le playlist quindi specialmente quelle dei webinar in cui si parla ovviamente di trading system invito è a visitarlo bene siamo stati bene dentro ai tempi che ci eravamo dati io vi ringrazio per l'attenzione avete il nostro indirizzo email nel senso che potete contattarci dal sito ora ripeto dateci tempo la prossima settimana per smaltire tutte le richieste che sono state fatte del robottino perché come vi dicevo prima negli ultimi giorni ne sono state fatte veramente molte appunto siamo alla richiesta 296 noi eravamo arrivati alla settimana scorsa con quella 258 ora le stiamo smaltendo tutte dateci tempo per cortesia abbiate pazienza entro la prossima settimana le smaltiamo tutte comunque se avete già il trading robot avete già preso dimestichezza con la piattaforma potete sbloccare i limiti acquistando appunto il servizio di sblocco della licenza che trovate appunto nella sezione trading robot è un canone annuale che ovviamente è commisurato a quello che si presume sia il rendimento ottenuto poi dalla strategia e dalla dal robottino in generale con l'utilizzo appunto di soglie di investimento più alte quindi ovviamente se avete bisogno di tempo continuate ad utilizzarlo gratuitamente tanto appunto non c'è un limite temporale bene io auguro buon fine settimana visto che ormai è venerdì a tutti e a presto con le prossime novità del trading robot grazie a tutti a presto a presto a presto a presto Grazie.